Nuova sequela di roghi notturni. Intorno alle 4.13 di oggi la squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Modica è intervenuta a Pozzallo, in piazza Zenion di Piave, per un incendio che ha coinvolto ben sei autovetture che erano posteggiate nella zona. A causa del rogo il prospetto di un'abitazione è stato anerito dal fumo, mentre due portoncini d'ingresso di altrettanti appartamenti sono stati coinvolti in un principio d'incendio. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare non poco per riuscire ad avere la meglio sulle fiamme, solo dopo le 6 di stamane la situazione è tornata alla normalità. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini, spetterà adesso i militari dell'arma a chiarire con esattezza la natura del rogo.